Ciao a tutti, bentornati nella Tana del Drago. Nel video di oggi andrò a rispondere alle molte domande che mi avete fatto in questo periodo. Ma prima volevo ringraziare tutti coloro che fino ad ora si sono iscritti alla Tana del Drago. Ringraziare tutti coloro che mi iscrivono e che lasciano dei commenti. Grazie, 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 insomma, grazie. E a chi non si è ancora iscritto alla Tana del Drago, voglio dare un consiglio. Iscrivetevi, iscrivetevi. Iscrivetevi, iscrivetevi. Comunque, stronzate a parte, iniziamo subito con le risposte alle vostre domande. Via. Come ti chiami? Mi chiamo Cristian e gli amici dicono. Dove vivi? Vivo in provincia di Como. Hai Xbox 360? Sì. Hai la Play 3? Certo che sì. Hai la Wii? Ce l'avevo ma l'ho venduta, ma comunque penso di riprenderla ancora. Hai il Nintendo DS? Sì. XXXL? Hai il Nintendo 3DS? No. Hai la PSP? No. Hai il PC? No. Hai il Mac? Sì. Qual è il gioco più brutto che hai per l'Xbox 360? Il gioco più brutto che ho per l'Xbox 360 è Rogue Warrior. Qual è il gioco più brutto che hai per la Play 3? Il gioco più brutto che ho per la PS3 è Rogue Warrior. Io sto scherzando. Preferisci COD o Mother Warfare? Tra COD e Mother Warfare preferisco Mother Warfare. Soprattutto il 2. Preferisci Halo o Gears? Tra Gears of War e Halo preferisco decisamente Gears of War. Soprattutto questo. Preferisci Mass Effect 1 o Mass Effect 2? Tra Mass Effect 1 e Mass Effect 2 preferisco decisamente Mass Effect 1. Comunque anche il 2. Tanta roba. FIFA o PES? Beh, obiettivamente adesso è molto meglio FIFA. Anche se a me è sempre piaciuto molto di più. PES. Iscritto, ricambi? Iscritto, ricambi? Iscritto, ricambi? Potresti fare un po' di pubblicità al mio canale. Allora, attenzione perché questa cosa è importante. Tutti coloro che vogliono essere pubblicizzati, che vogliono essere sponsorizzati, basta che me lo dicono. Io farò il possibile nei prossimi video per inserire i link dei canali di chi vuole essere sponsorizzato. Ovviamente se poi il piacere viene ricambiato, tanto meglio. A meno ci si scambia amicizie, ci si scambia iscrizioni. Mi sembra una bella cosa insomma. Farai un video risposte agli iscritti? Non credo. Che cosa stai giocando in questo periodo? Allora, in questo periodo sto finendo Taste of Vesperia. Molto bello, ve lo consiglio in bel RPG. Mi manchi, se mi manchi poco alla fine. E poi ho iniziato così, giusto per provarlo Ghostbusters. E mi sembra abbastanza carino. Che cos'è la Tana del Drago? Allora, la Tana del Drago è un posto magico dove vive un drago che sta tutto il giorno a giocare ai videogames. Davvero? Ma va, è la taverna di casa mia dove vi ritrovo a giocare con i miei amici. Farai la recensione di L.A. Noire? Penso di sì. Farai la recensione di Dirt 3? Non credo. Farai la recensione di Infamous 2? Probabilmente sì. Farai la recensione di Duke & Duke in Forever? Forse sì. Farai la recensione di The Legend of Zelda Ocarina of Time 3DS? Ovviamente sì. Beh, Zelda. Farai la recensione di Dead Island? Mi sa di sì, perché promette bene. Non ti sei ancora rotti coglioni di fare i video? Sinceramente? No. Ma c'è una domanda a cui non ho saputo della risposta. E vorrei che mi aiutaste voi. La domanda è questa. Secondo voi? Secondo voi? Secondo voi è meglio la Playstation 3 o l'Xbox 360?